Oh, avanti! Dedicatemi qualche minuto! Un glicinereo! C'è qualche sfida che ti attira? Un glicinereo! Si parte! Bandito, a sinistra! Kratos, c'è una cassa! Abbiamo completato la prova, ma c'è ancora molto da vedere Ci saranno altre arene? Vuoi scaldarti prima di scegliere? Ecco In arrivo da sopra! In arrivo da sopra! Scegli tu la sfida! 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 A sinistra! Scegli tu la sfida! 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 Allerta Come? E perché mai? Per ordine nostro Per ordine Ci siamo Freya, hai detto che possiamo dare ordini alla lava Si dice che le armi di Muspelheim conservino i ricordi di coloro che uccidono Persino dopo la loro fusione Il metallo vive? È una metafora, suppongo No Guardate, le rune a terra sono le stesse delle altre aree Devono essere connesse Forgia di fusione Suona pericoloso Avevo ragione Ben fatto, ora cosa avrà da offrirci la forgia? Ah, capisco A seconda dell'ordine in cui completiamo le prove, la ricompensa finale è diversa Allora proviamo a completarle in un ordine diverso, vediamo cosa cambia Preparo Il metallo è vivo Freya, perché scorre verso la piattaforma centrale? Scopriamo Scopriamo Ecco Scopriamo Scopriamo Cosa Scopriamo 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 Grazie a tutti. 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 Hai un nemico alle spalle! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scegli tu la sfida. Bandito a sinistra! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa in guardia, fratello! Grazie a tutti. 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 Ci ha condotti alla prova di Surtur. Provaci quanto vuoi Non cambierai il tuo destino È la resa dei beni Non lo pagherai Ciò che hai fatto Non cambierai il tuo destino Non cambierai il tuo destino